Guadagni a 5,80€ come bonus benvenuto e ogni volta che inviti una persona. Inoltre quest'app non richiede deposito. In questo video ti faccio vedere una nuova app che per promuoversi ha deciso di mettere un bonus abbastanza interessante. Ha deciso di dare un bonus di 5,80€ sia a chi invita che a chi è invitato. E la cosa interessante è che quest'app non richiede deposito. Quindi tu, una volta che fai passaggi che ti mostrerò nel video, riceverai soldi senza dover depositare nulla e potrai prelevarli. Inoltre a tua volta puoi invitare i tuoi amici e guadagnare 5,80€ ogni invito. Come puoi vedere qua ho 5,83€ perché mi sono appena iscritto. MyGuava è un'app semplicissima, puoi utilizzarla anche per fare acquisti online, per scambiare soldi con i tuoi amici eccetera. Come puoi vedere in quest'app ho già 5,83€ perché ho fatto l'iscrizione da poco e quindi mi hanno dato i soldi. MyGuava è un'app semplicissima dove puoi trasferire denaro, scambiare denaro con i tuoi amici, fare acquisti online, fare acquisti in negozi fisici eccetera. Inoltre c'è anche un giveaway. La prima cosa è iscriverti tramite il link di una persona. Come fare? Ora non ve lo posso mettere in descrizione neanche nel primo commento pinnato nella sezione commenti per un semplice motivo. A differenza delle altre app non c'è un link univoco dove puoi invitare le persone ma ogni volta bisogna generare un nuovo link. E come si fa? Sostanzialmente devo andare su more, invite friends e vedete qua ricevi 5 sterline tramite questo link eccetera. Quando faccio invite qua dovrò inserire il numero di telefono e MyGuava creerà un link apposito per quel numero di telefono. Per questo motivo mi dovete contattare su telegram fede98-98 ve lo lascio in descrizione. Oppure contattatemi dal mio account instagram se non riuscite da telegram. Preferisco che mi contattate da telegram. Lì mi dovete dare il vostro numero di telefono. Tranquilli non sono un criminale dopo lo eliminerò. Ma per questa prova è necessario che mi diate il vostro numero di telefono. Così che io genererò il link e vi indirò il link tramite instagram tramite whatsapp non lo so. Vediamo e poi lo eliminerò tranquilli non voglio ottenere il vostro numero se è chiaro. Una volta cliccato sul link e scaricato l'app vi comparirà questa interfaccia. Fate create new account. Inserite il vostro numero di telefono. Inserite il codice che vi invieranno. Inserite l'email e inserite il codice che vi invieranno via email. Compilate i vostri dati personali. Poi dovete confermarlo tramite carta di identità e selfie. E poi dovete aspettare che vi verrà verificato il vostro account. A me in pochissimo tempo, mezz'ora, un'ora, me l'ha validato. E poi riceverete subito i soldi che potete prelevare tranquillamente con Revolute eccetera. Quindi il video è finito. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi perché ogni settimana carico video su siti e modi per guadagnare. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, la fede. Grazie. 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 Grazie a tutti.